Sono Michele Di Giovanni e le voglio presentare Irpinia in Porto. Ante che tutto, Irpinia è un territorio, un territorio del centro-sul d'Italia con una gran vocazione vitivinicola. Originalmente sono di questa regione, mi sento in qualche modo identificato con questo territorio e ho deciso in ultimi tempi dedicarmi a la busca di evidenti eccellenze del prodotto vitivinicola che ci sono, e queste sono una delle motivazioni che in qualche modo mi induciano a imprendere questa avventura. Il deseo è che a travesse di Irpinia in Porto possa conoscere le migliori vivi di questa regione.